E' stato inaugurato la presenza delle autorità locali e regionali a Cerignola in provincia di Foggia il Polo Museale Civico, che si propone per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale locale e punta a diventare punto di riferimento nazionale nel settore turistico. Il Polo si articola in tre sezioni, Museo del Grano, Museo Multimediale del Piano delle Fosse e Galleria di Cerignolani, illustri tra cui Giuseppe Di Vittorio, Pasquale Bona e Nicola Zingarelli. Il Museo Multimediale del Piano delle Fosse è anche uno dei punti di riferimento della città ofantina, tra l'altro patrimonio unesco.